Chiaravalle, conclusi gli eventi estivi dell'amministrazione comunale. Si sono conclusi gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale di Chiaravalle, guidati dal sindaco Domenico Donato, in collaborazione con la consulta della cultura e l'associazione Agorà. Il cartellone preparato, con tanta cura, è stato valutato positivamente dalle persone accorse nella cittadina delle preserre. E ieri sera lo spettacolo musicale con Andrea Borrelli, che stiamo vedendo. Grazie a tutti. 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 A volte sono distratto dalla mia vita, da quella storia finita, che mi fa ricordare come ero in un sogno, in un soffio leggero. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera Buona tarda Buonasera Buonasera